oh hello there bentornati si ho una camicia perché sono a un evento importante l'atto quarto l'ultimo atto di questa campagna di mortal kombat ci mancheranno dai due ai tre capitoli questo compreso e c'è nessuno di gente ma quale c'è nessuno usiamo quello buono questi sono i minion del shinsung di mortal kombat 12 se è fujin io ripeto no è il drone è il drone di johnny cage che ovviamente è una citazione quello di sua figlia no ma ex was so wrong the 30k i spent on this seems like a steal right now this magic is incredible not magic your loveliness technology either way it's clear what must happen next the gateways and the dragon army have to be destroyed scorpion have you a plan we must divide our forces you shenzung quan chi will use your magic to attack the portals as you do ken chi and jared will grind down the dragon army the rest of us will attack our dark doubles if they're defeated it will hopefully throw the dragon warriors into disarray an astute strategy truly i could not have devised a better one enough for the empty flattery if you want to trust give us action not words finalmente quello che è stato battuto 600 volte allora lo usiamo è il tempo il venome si spiegherà sarà l'endolo di tutte queste cose armageddon l'abbiamo citati tutte deception dead in alliance armageddon parole che abbiamo sentito ok c'è il roto hai potere via ok la pietra contro la pietra questa è la dark shao c'era scritto quindi è lo shao khan dell'altro dell'altro primer ti Sì, sì, sì. che è Kenshi dell'altro timebite, tipo il vestito uguale ma specialmente gli occhiali brutti mi aspettavo un design più in stile Mortal Kombat X oh yes come vi ho detto avevo studiato un pochino la scena insomma cosa ricordo? Boh soltanto soltanto alcune cose molto poco a quanto pare molto molto poco ok scuul scuul mi ricordo si scusimi scusami cominciamo a provare Kenshi vero per la prima volta perché non avevo ancora mai provato il Kenshi completo oh non c'ho morto no com'è? no com'è? non c'avevo lì indietro avanti triangolo ah no è giù avanti triangolo vieni qua ma dai no com'è? no com'è? no com'è? no no com'è? no com'è? no com'è? questa è proprio il mio doppelganger guardare su youtube gente che cosa è venuta in mente cosa in realtà evito di fare il più possibile dato che ad esempio perché io voglio essere lì esempio che faccio sempre Rambo Rambo io lo giocavo con lui che striscia e con l'insetto online tutti usavano le corte le trappole, le cose e io mi trovavo bene così mi divertivo in quel modo cioè fare le combo efficienti della gente ma non mi divertivo avevo il mio modo di giocare funzionava meglio perché era più responsivo essendo quello che mi piaceva fare e vincevo lo stesso non mi divertivo non mi divertivo e vincevole che vincevole 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 intanto è successo un bug ma non voglio pensarci è stato bellissimo però ok ok no mamma mia che cretino sarei... cioè io dico questo paio non ci preoccupare ci sono più che quali non ci preoccupare no c'è Rai di Rai di Rai di Farsi? Strana skill per cosa? Per Rain? Cioè ci sta eh? Ma non la cambierei con quella che ha di base Ah giusto! Salve! Cioè non siamo il personaggio che conosco meglio nel gioco scusami Questa è altrabuildale Tiao explo Smolike è bloccato in tiporoso! Smoake è bloccato in tiporoso! Smoake è bloccato in tiporoso! Smoake è bloccato in tiporoso! no more you can defeat a half guard look at them people look at them people echo oh just not the point as a Huckster in Naples, Interlands, Shamsung dreamed of wielding great power though he held it only a moment it was worth every sacrifice he had made to get it very well smoke it the post hashtag, scribe the comment hashtag, smoke it the post you are not wrong, but it is tomorrow's problem let us first solve today's fight ok, now finally we have the context for this scenario noooo, I thought I had to go quite a bit I don't think I had to go do you want to kill me? and then and now instead do you want to kill me? and then do you want to kill me? I will send you to a watery grave Parliamo, ne? L'ho imparato questa stringa lunghissima. L'ho imparato. quindi era il senso anche qua 2 o 5? proprio così di da scalico la scena è sempre lo stesso, perchè si può sempre portare la risulta ah, con il martellone ovviamente non mi sembrava non mi sembrava non mi sembrava il mio corpo è il corpo di energia del portale abbiamo matito abbiamo matito Lo usare permanentemente Questi minions meddling diventano difficili Lasciamo finireli No, 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 no. me lo merito me lo merito volevo fare questo non ho scherzato cerchio invece di quadrato guardate per che devo fattare fattare blu Mi ricordi alcune stringhe base? Ok, si Ah questo, questo è ottimo Ok Questa dimenticando una cosa ovvia Ok, che te lo vedo Ok, che te lo vedo Con la musica che finiva a modo Grazie Quindi diceva che dobbiamo uccidere Darkshaow Mi insegnano una fatality Ok, che guardalo col marpello come fa a infilzarmi nel marpello Shao Kahn ovviamente si chiama proprio stasera ok non ancora abbiamo stato Shoken mai ora è la mia piazza ma non so se devo uscire niente uh ma è un po' ma va a lanciare oh oh bruttissima no vabbè peccato speravo gli dicesse you suck mecca un sacco di colpi bassi Shao Kahn non l'avrei mai detto che bello che posso chiamarlo Shao Kahn senza poter me perché è davvero Shao Kahn il mio combo breaker va bene il mio combo breaker non esiste fight oh oh beninda ovviamente non lo basterà mai perché c'è il cappuccio non lo basterà mai non lo basterà mai minerati sae sãos 이것ta sion il mio運 esiste di ragazza dei proiettili ho 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 is everyone in this timeline so feeble? yes oh yes uccidilo finalmente una kill uccidilo you've done it the armies trapped all of the other realms in this timeline are safe never forget Raiden now we risk our lives to perform this service one that wouldn't have been needed if you hadn't conspired with the other Shang Tsung you will fight to the last man come we must help the others oh oh sta per accadere non ho letto il titolo era tipo life and death Liu Kang e 14 eh capitolo 14 Liu Kang è l'ultimo raga è l'ultimo il prossimo episodio è l'ultimo ci hanno le altre timeline cosa diventa spider man into the spider verse mortal combat time trip to memory lane cosa sta per succedere di fan fictioning magari è una cosa più stupida e brutta di sempre però vediamo perché comunque non possono permettersi di creare chissà quali asset però possono riciclare quelli vecchi allora io vi dico quello che non faranno mai ma se io fossi Ed Boone me ne sbatterei la ciolla come dicono quelli e direi appunto chi se ne frega dei casual divertiamoci tanto è talmente meta che la gente lo capisce anche se non è un fan della serie ora lui viaggia nella timeline e io esigo che si giochi un round per ogni gioco lo so che è stupido lo so che sarà infattibile ma io voglio che lui diventi pixel si esatto io voglio che lui diventi una sprite pixel stile vero mortal kombat 1 primissima mortal kombat e combattiamo qualcuno lì e ci sono i barroni di testo che sono i loro dialoghi e poi si passa in un'altra timeline e siamo nella 3d era low poly cioè proprio playstation 2 modelli con un Liu Kang keeper of time modellato low poly still playstation 2 che dovrebbe avere le mosse da playstation 2 quello dubito ancora di più però ci sono i combo ereros cioè proprio che tu schiacci pause e ti esci il minu vecchio stile proprio io ve lo dico è un lavoro così proprio una richiesta folle che ovviamente supera ogni modo cioè però è la celebrazione di 30 anni di mortal kombat cioè porca miseria quella sarebbe una nostalgia pura e semplice ma che fa veramente esplodere il cervello anche il casual cosa sta succedendo quindi mamma mia non lo faranno mai ovviamente e e bu considerando che appunto già qua per ovvie ragioni la Sindel cattiva alla faccia di Sindel della nostra timeline e non il modello facciale della Sindel di mortal kombat 11 l'unico che si è salvato è Raiden per forza di cose perchè non potevi mettere Raiden giovane quando esisteva soltanto Raiden vecchio idem per Shang Tsung Shang Tsung della timeline non è carito kugawa e vabbè quindi ha senso a livello produttivo e legale anche that being said ho molta paura del finale ma in senso buono cioè sono incredibilmente casato e ho paura che questa mia casatura che loro mi stanno creando possa finire piatta quindi ti prego gioco stupiscimi in qualche modo e e fai finire questo gioco alla grande mi siete divertiti voi me lo auguro ci vediamo alla prossima con quello che 99 su 100 è l'ultimo capitolo di mortal kombat 1 statemi bene